Procediamo nel nostro aggiornamento passando a una comparazione con la sindrome respiratoria medio orientale del 2012. Qui la cosa è molto simile, MERS sappiamo avere un'alta omologia, cioè meglio il coronavirus responsabile, avere un'alta omologia con i pipistrelli. Però anche in questo caso è stato trovato un ospite intermedio che è il dromedario, sindrome respiratoria medio orientale, cammelli in particolare dromedario. Quello che si è visto è molto simile a quello che abbiamo visto prima, cioè l'omologia fra il coronavirus responsabile di MERS e un coronavirus di dromedari è molto più alta dell'omologia di sequenza fra il BAT coronavirus e il MERS coronavirus. Quindi l'idea è che ci sia stato un trasferimento del virus dal pipistrello al dromedario e che le mutazioni acquisite in questo animale abbiano permesso poi il passaggio diretto all'uomo e da uomo a uomo successivamente. Ovviamente il dromedario in Medio Oriente è un animale che si utilizza per tantissime cose, sia come mezzo di trasporto per l'uomo o per le merci, ma anche come fonte alimentare. In questo lavoro, il riferimento è nella slide iniziale, sono stati ricercati sia a livello di RNA sia a livello di anticorpi i virus responsabili di questa patologia. E vedete, pur non avendo trovato in tutti il virus, ma questo abbiamo già visto in altre lezioni, potrebbe non essere significativo perché se il cammello ha superato la patologia il virus potrebbe essere stato completamente eliminato. Quindi in alcuni cammelli dove ci sono questi numeri noi abbiamo la presenza del virus, quindi in alcuni casi su tre bersagli diversi ne sono stati trovati tre, due, uno, in alcuni casi tutti negativi, però vedete il virus è presente in buona parte di questi 14 cammelli. Mentre gli anticorpi, quindi l'analisi seriologica degli anticorpi contro MERS coronavirus ha dato positività in tutti i 14 cammelli. Quindi nei 14 cammelli esiste il virus esattamente MERS coronavirus. Per quanto riguarda invece SARS-CoV-2 siamo ancora nella fase iniziale della ricerca, vi ricordo che la scoperta risale circa a metà dicembre. Si può immaginare ovviamente che numerosissimi laboratori stiano lavorando su questo argomento, su questo settore, però insomma la ricerca ha dei tempi tecnici che possono essere accelerati dal numero di ricercatori che si occupano di studiare la cosa, possono essere accelerati dal numero di finanziamenti, dai soldi che vengono dati a questi ricercatori. Buona parte di queste ricerche sono molto costose, c'è un costo altissimo di personale, perché devo pagare personale specializzato, devo indirizzare le ricerche verso questo settore, e poi ci sono i costi dei macchinari e dei reagenti che non sono certo, come dire, costi collaterali, sono costi molto alti. Non sappiamo ancora, non abbiamo ancora idee, però qui vedete c'è un Nature Medicine, questi non sono riviste di basso livello, di basso profilo, dove pubblica, non dico chiunque, ma quasi. Sono riviste dove riuscire a pubblicare vuole dire aver subito delle revisioni molto massicce, molto profonde, e quindi c'è un certo margine di sicurezza, dico un certo perché purtroppo molte ricerche, fra virgolette, truffaldine, possono sfuggire, soprattutto oggi con l'uso massiccio dell'informatica, si possono addirittura fare ricerche completamente fasulle, ma apparentemente ottime. E quindi il referee, l'arbitro, quando corregge questo lavoro, e essendo stato anch'io un referee di riviste internazionali, so che quando fai una correzione di questo tipo vai a vedere anche le più piccole pubbliche, i punti e le virgole del testo, vai a confrontare quel lavoro con tanti lavori simili per trovare ovviamente dei punti di debolezza, quindi delle correzioni da suggerire, o addirittura in alcuni casi il rifiuto totale del lavoro. In questo lavoro, che è prossimo all'origine SARS-CoV-2, andiamo a vedere che un organismo sospetto, una specie sospetta, è il pangolino. Quindi potrebbe essere l'ospite intermedio, quindi non direttamente il pipistrello, che ha causato SARS-CoV-2 e COVID-19, o meglio che ha originato SARS-CoV-2 e causato COVID-19, ma il pangolino. Vi ricordo che il pangolino è un animale molto usato in Cina, sia come alimento, sia come fonte di medicina tradizionale. Ad esempio, le scaglie vengono vendute, non certo per l'alimentazione, ma vengono vendute come rimedio medico, come tantissime altre cose animali, e non solo. Andiamo a vedere in questo lavoro anche questa affermazione, questo periodo molto interessante per me, ed è uno dei tanti lavori che potete trovare con questa ottica. in questa ottica, come vi dicevo all'inizio, insomma, prima di affermare che il virus è uscito da un laboratorio che è un intermedio fra un virus corona e HIV, bisogna avere delle prove. Le prove non possono essere un unico lavoro in tutto il mondo, che è rimasto in rete due giorni, e poi è stato ritirato dato il livello scientifico molto basso. Poi ognuno può pensare al complotto internazionale, ma ci vogliono ovviamente le prove. Allora, è improbabile che SARS-CoV-2 derivi da manipolazioni di laboratorio, ad esempio correlate con il coronavirus della SARS. e andiamo a vedere adesso l'altra frase. Se la manipolazione genetica fosse stata effettuata, uno, almeno uno, di quei sistemi di genetica inversa, e sono molti quelli che si usano, cioè è possibile fare virus di combinanti, ci mancherebbe altro, però non si fanno mescolando sale e zucchero e poi soffiandoci solo. Si usano dei sistemi abbastanza standardizzati e di questi sistemi ne deve e o comunque ne rimane traccia. Ora, nessuno dei sistemi utilizzati per i beta coronavirus, che abbiamo visto essere il gruppo a cui appartiene Cov, è stato usato. Tuttavia, i dati genetici irrefutabilmente mostrano che questo SARS-CoV-2 non deriva da nessun virus precedentemente utilizzato. E quindi, ovviamente, si presentano scenari diversi. Ora, andiamo a vedere in questo altrettanto interessante lavoro il ruolo dei cambiamenti della proteina Spike di SARS-CoV-2 e l'interazione con il recettore che abbiamo già studiato, ACE2. Un'analisi in silico. Bene, ne abbiamo già parlato abbondantemente a scuola. Che cos'è l'analisi in silico? Non è l'analisi in vitro e non è ovviamente l'analisi in vivo. Allora, l'analisi in vivo è quella che io faccio in questo caso direttamente sul pipistrello, sul cammello, su uomo. L'analisi in vitro la faccio in provetta quindi lavorando, ad esempio, su cellule prelevate dal pipistrello cellule prelevate dal cammello, dall'uomo sui virioni che sono riuscito ad isolare. L'analisi in silico è un'analisi al computer è un'analisi bioinformatica quindi io non uso né l'animale né sue parti ma uso un computer. Quindi confronto ciò che conosco mediante l'informatica. Ovviamente, come già vi ho spiegato l'analisi in vitro ha la necessità di essere poi confermata in vivo ancora di più l'analisi in silico. Il bioinformatico trae delle conclusioni formula delle ipotesi dopodiché passerà questo lavoro al biologo di laboratorio che utilizzerà l'analisi in vitro e l'analisi in vivo per confermare, smentire, correggere quanto è stato calcolato al computer. Se andiamo a vedere la comparazione delle sequenze della proteina spike che abbiamo detto è la più importante io mi accorgo che queste tre sequenze di Cov2 sono strettamente correlate al 97,7% di omologia con un coronavirus di pipistrello un rinolofus affinis meno 82,2% con il rinolofus sinicus e come avevamo già detto anche con il Covid della SARS quindi al 76,7% c'è omologia col virus della SARS qui vedete tanti virus di pipistrelli bat 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 eccetera questi connettori mi dicono la distanza quindi questi tre sono molto simili questo ovviamente è molto simile con questo questa linea mi dice che non c'è una così alta similitudine con il DQ41 eccetera presente qua sopra come abbiamo visto già nelle lezioni precedenti nonostante questa affinità fra Cov2, SARS in particolare e meno il Cov della MERS della sindrome respiratore medio orientale c'è una grossa differenza negli effetti perché SARS e MERS si sono diffuse molto meno il numero di morti non è lontanamente paragonabile poi gli effetti sui colpiti potevano essere anzi erano peggiori rispetto agli effetti attuali quindi la letalità il numero di morti sulla popolazione colpita dal virus però la trasmissione era molto più blanda è stata per fortuna molto più blanda allora ovviamente i ricercatori si soffermano su questi aspetti e vanno a cercare di capire come mai qui in questa tabella molto interessante abbiamo una differenza fra le interazioni della spike di SARS-CoV con il recettore ACE2 e le interazioni di SARS-CoV-2 con il recettore ACE2 le lettere già le conoscete sono gli aminoacidi ad esempio arginina, tirosina, alanina e via dicendo quindi se volete andate a vedere le tabelle come vedete le interazioni sono molto più numerose significativamente più numerose per SARS-CoV-2 rispetto a SARS-CoV-2 se andiamo a vedere il numero di contatti proteina a proteina cioè i PPCS fra spike e ACE2 vedete che abbiamo interazioni carica-carica quindi aminoacidi carichi con aminoacidi carichi 4 per il coronavirus dei pipistrelli 5 per il coronavirus della SARS 13 per CoV-2 carichi polari, carichi apolari, polari polari, polari apolari, apolari apolari per un totale di 81 per il virus 117 per SARS e 143 per CoV quindi molte più interazioni per CoV-2 se andiamo a vedere alcuni parametri sui complessi proteina a proteina fra spike e ACE2 abbiamo per i pipistrelli un delta G quindi un guadagno energetico diciamo in queste entalpico in realtà in queste interazioni molto alto per SARS-CoV-2 quindi è molto conveniente fare questa interazione molto di più che per B la costante di dissociazione stessa identica cosa è molto più bassa per SARS-CoV-2 cioè si dissociano molto meno ovviamente il fatto che queste interazioni siano molto potenti per SARS-CoV-2 porta alla domanda successiva come risolvere il problema